buongiorno a tutti dot andrea rebiz in questa giornata di uggiosa direi di inizio aprile ne approfitto per un attimo di tranquillità e di cosa parliamo continuiamo a parlare di problematiche correlate alla stipsi durante la cheto che caratterizzano direi quasi essenzialmente le persone che sono un po così refrattarie nell'assumere una sufficiente quantità di vegetali verdure atte a regolarizzare il transito intestinale per queste persone ci sono dei trucchetti per esempio e ho questa confezione senza voler pubblicizzare nulla questa confezione è di melatonina pura in gocce e tra le avvertenze leggo papale papale un consumo eccessivo può avere effetti lassativi ecco che qualora la persona volesse assumere della melatonina e avesse problemi di stipsi e non volesse mangiare una diciamo così sufficiente normale direi quantità di verdure per queste persone ci può essere questo trucchetto non è farina del mio sacco l'ho sentito da già dire da altri colleghi oltre oceano sono trucchetti per cui si ricorre alla terapia comunque che comunque sarebbe diciamo assumibile unendo la cosiddetta il cosiddetto effetto collaterale che in questo caso ci viene proprio bene o meglio viene proprio bene ai pigri che non amano le verdure e con questo vi auguro una buona giornata che non amano i migliori